Grazie Quindi è un libro studente che ha improvviso e traumatizzato. dagli eventi della vita, un ragazzo che poteva stare seduto a filosofizzare con gli abisci che all'improvviso viene a sapere della morte del padre, del fatto che non è lui a diventare il re, non è lui il giovane principe a sedere sul trono, ma bensì suo zio sa del tragmento della madre e quindi deve alla fine accettare tutte queste cose. Quindi sappiamo qual è oltretutto il paesaggio danese, particolarmente cupo, va su questa rupe e nell'esistenza di ciascuno di noi ci sarà sempre un animato, un momento in cui il paesaggio che torna noi è cupo, è Cristo. He knows that, he's smart, very smart, but you make a deal, he's going to kill himself, he thinks. So he starts, because he's a philosophy student, he starts to make a deal with God, to be, not to be, you know, and he doesn't know yet whether he's going to do it or not. And because he starts thinking about, if I do this, why did God say it's a sin? Why did God allow this to happen? And so his anger and he's, he's a God. You know, if I do this, I can't go to heaven. He's religious. He's a well brought up religious young man, Hamlet. So he can't kill himself. Quindi alla fine lui comincia a patteggiare, a fare un tato, dice non uccido, non uccido, patteggia con Dio, comincia a pensare a che cosa deve fare, siccome peraltro è una giovane che è stata levando, secondo tutti i cani, un vero religioso, e sa che ovviamente il suicidio è un peccato mortale, comincia a pensare a tenere di non poter poi andare più in paradiso, perché sa che è un peccato. So it starts to build from indecision. You know, you're not decided whether you're going to kill yourself or not. Maybe you will. And then you start thinking, what if I have bad dreams? And that's when you build. You know, who wants to live in this world? to live in this world that lies, this world where people treat you badly? And so it starts building up to that. And then he said, quindi tutto si costumisce parte da questa indecisione, perché lui ancora non ha raggiunto un'indecisione, ricerca su da farsi, e poi comincia a dire ma forse, poi avrà dei cattivi sogni, degli incubi, ma ti vuole vivere in un mondo come questo, un mondo di menzogne, dove devi trattato male. E da lì quello che dice, c'è questa costruzione. And in the end, he says, when you think so much, you don't do. You lose the will of action. And then, that's when he sees a thing there, and he says, Nathan, I'm ourselves, you'll pray for me. Quindi qui alla fine, poi raggiunge la conclusione, per agitare così tanto di arravellarsi, si perde la volontà di agire. Ed è l'ora che vedo il fede che è appunto di pregare per tempo. Grazie, grazie Tino. Grazie.